Re Artù, il mito del re perfetto. Re Artù è una delle figure leggendarie più iconiche e affascinanti del mondo occidentale. Il suo mito, nato in Gran Bretagna nel Medioevo, ha affascinato generazioni di lettori, scrittori e artisti. Le origini della leggenda Le origini della leggenda di Re Artù sono incerte. Alcune storie narrano che Artù fosse il figlio di Euther Pendragon, re di Britannia, e di Igraine, moglie di Gorlois, duca di Cornovaglia. Merlino, il mago, usò la sua magia per far sembrare Uther il marito di Igraine, e così Artù nacque. Altri racconti narrano che Artù fosse il figlio di un ricco contadino e di una donna misteriosa. Merlino, che lo aveva riconosciuto come un grande re, lo portò a Camelot, la capitale di Britannia, e lo fece crescere alla corte di Re Uther. La spada nella roccia. Secondo la leggenda, Artù dimostrò di essere il legittimo re di Britannia quando, da ragazzo, riuscì a estrarre la spada Excalibur dalla roccia. La spada era magica e solo il vero re di Britannia poteva estrarla. Artù diventò quindi re di Britannia e fondò la Tavola Rotonda, un ordine cavalleresco di uomini coraggiosi e leali. La Tavola Rotonda era simbolo di uguaglianza e giustizia, e i cavalieri erano impegnati a difendere i deboli e a combattere il male. Le imprese di Artù. Artù e i suoi cavalieri compirono molte imprese eroiche. Tra le più famose si ricordano la battaglia di Camelot, in cui Artù sconfisse i Sassoni, un popolo invasore, la ricerca del santo Graal, un calice che, secondo la leggenda, conteneva il sangue di Cristo, l'amore tra Artù e Ginevra, la regina di Camelot. La morte di Artù. La leggenda narra che Artù morì nella battaglia di Camelot, ferito da Mordred, il figlio illegittimo di Artù e Morgana Lefei, una potente strega. Il significato della leggenda. La leggenda di re Artù è un racconto epico che celebra i valori della cavalleria, della giustizia e dell'amore. Artù è un simbolo del re perfetto, un sovrano giusto e illuminato che incarna i valori più alti dell'umanità. La leggenda di re Artù ha avuto un'influenza profonda sulla cultura occidentale. È stata fonte di ispirazione per opere letterarie, artistiche e cinematografiche. Il mito di Artù continua ad affascinare e a ispirare le persone di tutto il mondo. Alcuni aspetti della leggenda di re Artù. La leggenda di re Artù è ricca di elementi simbolici e allegorici. Alcuni degli aspetti più interessanti della leggenda sono, la spada nella roccia, la spada è un simbolo di potere e autorità. Il fatto che Artù sia in grado di estrarla dalla roccia dimostra che è il legittimo re di Britannia. La tavola rotonda. La tavola rotonda è un simbolo di uguaglianza e giustizia. I cavalieri della tavola rotonda sono tutti uguali, indipendentemente dal loro rango sociale. Il santo graal. Il santo graal è un simbolo di perfezione e salvezza. La ricerca del santo graal è un viaggio spirituale alla ricerca della verità e della conoscenza. L'amore tra Artù e Ginevra. L'amore tra Artù e Ginevra è un amore tragico. L'adulterio di Ginevra con l'ancillotto porta alla morte di Artù. La leggenda di re Artù oggi. La leggenda di re Artù è ancora oggi una delle storie più popolari al mondo. È stata raccontata e reinterpretata in innumerevoli opere letterarie, artistiche e cinematografiche. Il mito di Artù continua ad affascinare e a ispirare le persone di tutto il mondo. Artù è un simbolo di speranza e di giustizia. Un modello da seguire per chi crede nei valori della cavalleria.